Ciao ragazzi, secondo video tag sulle 8 cose che usi di più è indetto da Lalla88morea stavolta mi sono aggiornata e mi sono architettata un piccolo metodo ovvero ho il computer di fronte e quindi lo posso leggere allora, in questo tag bisognava dire le 8 cose che noi usiamo di più a parte una di make up, le altre sono comunque varie, random seguendo comunque sempre delle categorie le categorie sono rossetto lucidalabbra, orecchini, maglietta, smalto, scarpe, prodotto per capelli, profumo e borsa allora, iniziamo allora, iniziamo prima di tutto, prima categoria, rossetto o lucidalabbra io adoro questo rossetto della Rimmel London ed è un rossetto che se no, cioè, impazzisco mi sta praticamente cecando ed è un rossetto della Rimmel London il packaging è molto molto carino viola ed è il numero 180 vintage pink non vedrete un cavolicchio vabbè vintage pink ed è un rosa un rosa antico è un rosa antico ed è molto molto bello io lo uso praticamente tutti i giorni perché lo uso tutti i giorni perché sta bene da solo non è tanto perlato e non è neanche tanto forte e lo uso con un lucidalabbra sempre su rosa di sera perché cioè sta un amore poi, seconda categoria orecchini orecchini io devo ringraziare la mia amore amora per eccellenza Valentina perché lei mi ha regalato questi e questi sono praticamente gli orecchini che io sto usando più di tutti in questo periodo come vedete sono di fimo li ha fatti lei li ha fatti lei sono di fimo e rappresentano una tortina cioè io vi faccio vedere quanto so beh ah perché ho quest'altro scusate vabbè ve lo faccio vedere così cioè è un amore un amore di orecchini veramente infatti la ringrazio ancora anzi sto cercando di decidermi anch'io a iniziare questa bella impresa con il fimo però ecco vi faccio vedere che sono molto molto carini è molto molto brava e cioè è stata terza categoria maglietta maglietta io vi faccio vedere questa che ho addosso che non è una maglietta ma è un maglione oddio ho fatto cascare qualcosa sicuro non è una maglietta ma è un maglione ed è un maglione veramente cioè che io uso fino allo sfinimento è un maglione arancione come potete vedere dal colore molto molto sciabrio questo arancione è molto caldo molto morbido cioè io sfido chiunque a trovare un maglione di questo genere sfido vediamo chi accetta la mia sfida e questo e siamo alla quarta categoria smalto smalto allora oggi avrete l'onore di vedere le mie unghie sul rosa anche per la gioia di mia madre che non mi può vedere con le unghie scure ma io adoro questo infatti lo so per finire ed è il Rimmel 60 secondi ed è un viola scuro tendente al nero cioè ragazze io sto per morire ve lo dico cominciate a prendere una lapide a mandare fiori perché prima o poi ci sarà il mio funerale abbiamo detto della Rimmel 60 secondi quello che si asciuga in 60 secondi ed è il numero 600 ora io mi impicco perché non sono mai riuscita a dirlo questo nome deliciously dark scusate scusate ma sembrano scioglilingua e questo lo uso praticamente molto molto spesso è questo colore scuro cioè è bellissimo ragazzi è un viola prugna nero bello cioè il più bello che ci potesse ci possa essere in commercio di questo genere quinta categoria sì quinta scarpe 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 si vede pure quanto le utilizzo perché fanno fanno schifo sono zozze da lavare sono queste le mie bellissime scarpe da ginnastica ora ve ne faccio vedere solo una perché insomma due è un po' difficile e sono le red sono le red queste scarpe mi sono piaciute tantissimo per questo disegno qua tutto bello brillantinoso glitterato rosa su sfondo bianco e cioè queste scarpe fanno la guerra io me le metto quando piove quando c'è il sole d'inverno d'estate in palestra quando vado a correre sempre queste scarpe hanno visto di tutto e cioè poi io sono il genere hip hop come potete vedere e queste cioè me ne comprerei un altro paio se potessi purtroppo mi mancano i soldi se no le avrei comprate tutte di qualsiasi colore ci fossero c'erano rosa celeste argento io me le sarei comprate tutte e tre però ecco queste sono le mie belle scarpine bellissime oddio poi sesto prodotto prodotto per capelli giusto allora sono due in realtà allora sono uno è il mio balsamo non posso fare a meno del balsamo mi sono convertita anch'io al cocco e anche se come odore diciamo non è che mi faccia impazzire però mi sono convertita piano piano me lo faccio me lo sto facendo piacere e questo è del balsamo della splendora al cocco appunto 300 ml addolcente per capelli lunghi e ribelli e sapete che i miei capelli non è che sono tanto docili mi sono dilungata e ovviamente la batteria e la memoria hanno detto ciao manuela ciao vabbè comunque avete capito insomma questi sono i miei prodotti per i capelli ragazzi leggete attentamente la barca leggete attentamente e provate chi sta cercando provi provi sperimenti le cose che costano poco sono sempre le migliori non è vero però non si sa mai altra cosa settima categoria profumo profumo e scada lo sapete io sono innamorata di questo profumo Ocean Lounge e purtroppo è il regalo del mio ex ragazzo però è buono quindi io cioè non me la sento di ridarglielo tra le varie cose e quindi me lo tengo e me lo metto alla faccia sua e di tutti quelli che mi vogliono male e è buonissimo sa di fragola cioè io adoro la fragola poi comunque il packaging è molto bello parte dal bianco per passare al fucs e poi al rosso è fantastico preso in Spagna bello 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 lo lo propongo ottava categoria ultima borse e in quanto a borse questa è la borsa per eccellenza eccola qua è gigantesca è gigantesca ed è soprattutto verde verde è un altro dei miei colori preferiti ha pure questi gingilletti qui molto carini borsa che voi non avete non avete idea di quanto io l'abbia pagata perché l'ho pagata l'ho pagata la bellezza di 5 euro ragazzi guardate è una valigia una valigia e vi giuro senza di lei non potrei andare da nessuna parte è la mia compagna per la vita e niente questi erano i miei 8 prodotti che uso maggiormente di cui non posso fare a meno 8 most worn e niente ringrazio lalla88morea per questo bellissimo tag mi sono divertita moltissimo a farlo e e niente un bacio e al prossimo video tag ciao a tutte